Musica Ciao Sardegna, Pino Scotto Come vedete siamo sempre in giro, in tour, a macchina reddata e rock'n'roll Vi volevo ricordare che venerdì 10 settembre vi aspetto a Falciovilla di Sassari Insieme allo staff di Eventi Metallici Insieme a noi suoneranno il Nero Perverso e gli Anthem of Steel E poi non dite che lì da voi non c'è mai un cazzo Venite, venite, se no andate a fare in culo Venite, sarà una grande serata di sano rock'n'roll Stay rock, brother Fotti, 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 fotti di stronzo Fotti, 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 fotti di fretta E' la mia storia